ma anche squiattoli ragà Voi non avete memoria E sono quelli di ReZero E sono una bestia anche quelli I mille scoiattoli Sono quelli raga Conegli, scoiattoli, cazzo sono Sono una bestia anche quelli Quello è lo spoiler della bestia futura Non lo dico io Sì, i conigli Infatti anche quelli di ReZero sono conigli Ken Vieni in vocal su Discord, dai Forza Vieni Ken, vieni Che oggi si fa Big Content, vieni Vieni Ken, vieni Vai a fare il culo Bufalo Sono conigli Tipo quello che ho mangiato a casa di Zad Noi Azz Non ho messo Lo faremo esattamente in questo modo Davide Grazie a tutti i 11 mesi ben tornato Ma perché hai messo il set dei lupi Che si attiva solo Se tutti gli allenati sono Davide Io ti devo dire che ho Seguito Blizzardone Se lui è sbagliato è colpa sua Non è colpa mia Dici Blizzardone che mi ha sabotato e non me ne sono accorto Ken Dove sei Adesso ragazzi Vi chiedo Vi chiedo una cosa Secondo voi Tra tutte le bestie Chi vincerebbe In una bella Royal Rumble Chi vincerebbe Chi vincerebbe Tu sia Eh grande bestie No Purtroppo I lupi sono due E che vuol dire La mia moglie ti ha nascolato Ammazza tutti i due Fa back to back Fa tutu E poi anche in bocca Mi sa che c'è intorno entrambe Mi sembra Ok Tu assomigliando Hai affare in culo L'uccello può volare Che lo prende Le dog è alto un chilometro e mezzo Poi per attaccare Doveva pur scendere Quindi insomma Secondo voi Con i conigli meme I conigli meme ragazzi Sono tipo Buoi insetti Quelli che combattono tutti insieme Allora Tavano mille addosso Chi ha E tipo piragna Tutti insieme Oh Fighissimo Comunque Le tentiamo Avete detto Set del piccione A ricordarsi Quali cazzo è Prova il set del piccione Ma Piccione Where is Questo qua Are you serious Io mi fido di poli Io mi fido di poli Pali Questo Qua va il team day Serio? Ken è scappato Sì sì Ken è un crown Di quelli Ma sarà La gaminetta Ma dopo sia Vincerebbe lo squirattolo Ma se ci pensi Lo squirattolo È il più forte E E Vi ingaggia Che ne so Due mesi su quattro E gli dice Vi do il premio Se sconfiggite quell'altre Che ne so I lupi E No I lupi Il piccione Any dog Metti caso E poi Li inganna E si fa I dog E sconfiggite il piccione E poi ti do le cose E poi Fa un cazzo Cioè Etterialmente Hanno Cioè Ha il potere tra le mani Perché tutti vogliono Quelle bacche di merda Che poi che sono Banane Bacche Cazzo Sono pompelmi Che sono Veramente Io boh Vado a prendermi il pre Boh Addio 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 Vabbè Almeno tre stelle In questo caso Frutti Dell'Hydrasil Bah Lui è Colui che comandava Gli scoiattoli Gli scoiattoli Gli conigli Su Rezio E' lui ragazzi Cento Cento E' lui E' lui Cento Cento E' lui Sempre il futuro Del mondo Se io ho capito L'ora del massimo Gli altri bestie Che ci possono arrivare Mi sembra strano Leo Primo Primo Leo piano Ah Ken Tre secondi Disco Now Forza Vieni Muoviti Dai Ken Dai Ti chiamo Vieni Ken Vieni Ti stremo E si gode Un attimo Un attimo ragazzi Devo subito Ken 1 Ok Ken Vai Eccoci qua Ok Cosa ti dicono? Non lo sai nemmeno Te immagino Allora qua Prima Blizzardone ha detto Seriamente parlando di fare L'altro debuff Quindi questo Poi Lui prima ha detto Single target E poi away Però Tornava meglio il contact Quindi prima away Poi fare così E poi così Facevamo vuoterno in questo modo Facevamo Ma si Pregatemi tanto Il prossimo video Non ti chiedo Ma gaga gaga E' scontato Guarda che muore Guarda che muore No Sì ma che sfiga Che sfiga Ora tu te lo more Endicons Prima è rimasto È rimasto con un HP Poi deve succedere Poi avanti Endicons Allora Fase 2 Regenamento Ogni volta che lo attacca Ogni volta che fa una azione Ogni volta che lo respira Si va a fa Un va a fa più fa male Quindi oltre a pescare Tanti attacchi di Endicons E' indossato Gli attacchi di Endicons Aspetta Devo fermo un attimo Non ha tirato la ulti La tira adesso Quindi lo buttiamo giù Vuoi giocarla Cosa che gli tanti No La fase era il turno 2 Questo è il turno 3 La ulti Scusi Ma il cazzo dico La ulti era il turno 2 Evidentemente Ora ha scolato Nello cazzo Bravo Quindi Stonks Si butta giù senza la ulti Andi sono vive Come si Che cazzo vuol dire si Io non capisco Se i problemi ti stai facendo Ascurato meno il boss Non ti autate Cazzalocine Allora Punta con Liz Fai buff di Liz Buff di Liz Perderemo anche Con questa Il target Ma tutte e due Non ne ho avuto C'è una sola Tanto pescherà un Mi devi recuperare il target Dai che Scoppia Spera No Scoppia con una singola Il target Scoppia Baffato Dai Per favore scoppia Per favore scoppia Eh infatti Uno bastava Vedi Bello che da 300.000 Basta a 6.000 Bello Io vorrei sapere Per esempio Quanto hai Stato Abbiamo Già Stato Abbiamo Già Stato No E Quello è A destra Sono a destra 10 Oh no 10 10 Perfetto Bastante Perfetto 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 Ultimi Lip Con minimo di baffi Ultimi Del dk A A Ma Secondo me No Ma non è quello C'è Ma anche qui Il dk Al 2 C'è Ma C'ha Il dk Sto posto No Prima Prima si C'erano tutti I morti Il capo Vabbè Vabbè Qui Prima Siamo morti Ricordo Sì Perché C'aveva 700 Batti Gliela Avete Ritolti Eh Ma è Messo il più Forte Un po' Pretende Che Gli Ritogga C'è Leo Ti avverto Che Non si sente Un cazzo Alza Un po' Ken Ma è Al massimo È Al 200% Ken Ragazzi C'è Parlo più forte Io E Via Sesso Al Dezio Faccio Il volume Della Voce Vai Vai Perché Se Non Scopri Non è Che Scopri Ma Ti Trocca Tutta La Ma La Ultima Per Forza Abbaffato Ultima Ken 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 Aspetami Un attimo Ti Parla Ti parla La bassa Voce Così Non Ci sento Nel Stream Chiam Che Chiamalo Caronte Il boss Ok Ulti di Caronte Ulti di Caronte Su Melle Che vuol dire Ulti di Caronte Su Melle Cazzo vuol dire Ulti di Caronte Su Hendrickson Ulti di Caronte Su Hendrickson Boh Beh Vai Poi Attacco di Caronte Su Liz Attacco Attacco Non la ulti Attacco Attacco Bravo Carlo Conti Vai Melle Ah Ma non è che è schifo Però Eh però Era il 2 Dai Non è morto Si ho capito Guardi Ma mori Vai a fare il culo Io devo andare Stasera Bella Gian Porco Dio Simpatico Delicato Non tocca Estremamente Delicato Non ha neanche Tristato Scusi Vabbè Però lo puoi Shottare Tre stelle di Melle Almeno vai in fase 3 Guarda Come è la fase 3 Vai 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 L'obiettivo E' vedere Che vincevo Che vincevo Che vincevo Sui lupi O il cervo Bravo Volevo Volevo Vedere la ultima No ma che Troppo Basta il dk Ma tanto Che te ne ha capito Non potendo Di te più Dare Tirare carte Vieni Ti scilla Tutte la mano La prossima Ma è un po' Ma è un po' Non è uno Vai L'ho rischiato Signori Invece è andata bene Siamo in fase 2 ragazzi No fase 3 Che 2 No no fase 2 Ora ti arrivai No bene Meno male Oh che bella La passiva Vedi Non si può poterle Ma la passiva L'immagine è sempre Il piccione Scusami 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 Ciao Cotto Oh mio mio Fermo Indicato Che palle Che bello 40 minuti Dai affari in culo Mori prima Guarda come scoppi Guarda come scoppi Che balle Che balle Che falle Grazie.